Molto semplice, stiamo parlando di persone che possono essere indirizzate alle soluzioni abitative di tutti i cittadini italiani e stranieri nel nostro paese, perché non c'è nessuna ragione al mondo, né culturale né etnica, tanto meno genetica, che possa motivare il raggruppamento degli stessi individui solo perché appartenenti alla stessa etnia in un solo ghetto. Ecco, non c'è motivo al mondo, tanto è vero che così non avviene negli altri paesi, tanto è vero che in Italia tantissimi sono i Roma e i Sinti che utilizzano una soluzione abitativa uguale a quella che utilizziamo io e lei.